Innovazione. La Commissione europea rivela che il 55% delle imprese ha raggiunto almeno il livello base di digitalizzazione. L'Italia però è ancora sotto questa media con solo il 40% delle piccole aziende digitalizzate. In Germania e Olanda sono il 60% e il divario si accentua nelle regioni del mezzogiorno, soprattutto per le aziende con meno di 50 dipendenti dove c'è una limitata diffusione dell'intelligenza artificiale o dell'Internet of Things. Ecco allora arrivare per Abruzzo e Molise e Diamo, progetto finanziato per 4 milioni e mezzo di euro dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presentato nel centro spaziale Piero Fanti del Fucino di Telespazio in provincia dell'Aquila, con 170 antenne e i suoi 370 mila metri quadrati di superficie, è riconosciuto come il primo e più importante teleporto al mondo per usi civili, svolge attività di controllo in orbita di satelliti, servizi di telecomunicazioni, televisivi e multimediali. A fare gli onori di casa il direttore di Telespazio Gianni Riccobono e Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, partner dell'iniziativa. Ospite il presidente della regione Marco Marsilio che ha parlato dell'importanza del rafforzamento della digitalizzazione. Stiamo anche sviluppando un percorso che deve portare alla Costituzione, un vero e proprio distretto dell'aerospazio per sviluppare ulteriormente questa vocazione industriale della nostra regione. Fare squadra, fare sistema è la ricetta giusta per far crescere un territorio. Il presidente Riccobono ha fatto una sottolineatura che mi fa molto piacere, perché sono marsicano, sono vicinano, quindi la consapevolezza, l'aderenza del tessuto produttivo.